Intorno a cui dobbiamo sempre aggirarci, la nuova civiltà del terzo millennio, attraverso Pietro Ubaldi. Anche il problema del dolore ci riconduce dunque allo stesso principio, che il nostro punto di partenza e di arrivo è intorno a cui dobbiamo sempre aggirarci. Cioè che l'universo è un sistema, un organismo, un funzionamento logico. Se non rispetteremo le norme e non seguiremo le vie di questo sistema, il problema del dolore non potrà essere risolto. L'ateo può credere che non esista nessuna regola. Il pessimista può credere che domini il male e il disordine. L'epicureo può credere che sia possibile infischiarsene di tutto e il violento di imporsi su tutto. Ma la legge continua in ogni momento ad esprimere la sua natura che è ordine, la sua volontà di restare ordine, il suo imperativo di sempre maggiore attuazione di ordine in ogni essere e momento. Quando questa assoluta e fondamentale esigenza di ordine non è rispettata, appare il dolore, fatto la cui gravità indica quanto sia proporzionalmente importante il principio alla cui difesa esso è preposto. Il dolore è nel sistema il campanello di allarme che ci avverte dell'errore, corregge la deviazione imponendo la correzione, precisamente come avviene nel sistema nervoso dell'organismo umano che è fatto a somiglianza di quello dell'universo. L'uomo può credere e fare quel che vuole, ma il sistema non tollera assolutamente una alterazione dei suoi equilibri e, se questi vengono violati, esso si difende e si avventa contro il violatore e lo costringe a sue spese a ricostituirli. Il dolore è di fatti a spese del violatore. Chi ha errato paga del suo, personalmente.